allora sono qui in solidworks e voglio provare a copiare questa tra virgolette copiare questa piastrina qua ok per far questo ho dovuto creare come si dice un punto ok perché adesso vi farò vedere come si può usare lo schizzo derivato ok dunque però per fissarlo bene ho proprio bisogno di questo punto qua ok se no non si riesce a fissarlo bene dopo vi farò vedere che non c'è altra soluzione dunque adesso uno schizzo derivato che ha il vantaggio di essere parametrico a questo punto io scelgo devo andare a prendere questo schizzo qua ok questo schizzo qua e contro la superficie devo andare su inserisci schizzo derivato schizzo derivato a questo punto faccio qua in automatico mi sposta lo schizzo che c'era è completamente parametrizzato a questo ok naturalmente questo lo trascino qua e lui poi alla tendenza a votare a questo punto faccio questo contro questo parallelo è diventato nero l'importante che diventi nero e vado poi in funzioni estrusione e lo giro 10 unisce il risultato va bene ok il vantaggio è che io qualsiasi quota che modifico qua anche il di là si è completamente parametrizzato si modifica anche di là perfetto addirittura se voglio andare a nascondere un foro me lo va a nascondere ok dunque molto molto utile questo e come si vede qua questo schizzo derivato ok l'importante che sia nero se no non è definito se non avessi avuto il quello schizzo lì ipotizziamo di andare a cancellare quello schizzo lì però mi elimina giustamente quello la proviamo a fare così ok questo qui cancelliamo ci spostiamo ok a non avere quello la diventa difficile vedete che comunque quando si sposta solamente no diventa difficile perché una cosa io potevo mettere questo è per esempio questo collineare li resta però il mio problema dunque l'altezza loro il problema è andarlo mettono in centro senza senza quello li diventa veramente difficile anche perché se io vado a fare qua e vado a prendermi il punto medio vediamo se ce la faccio ok perché se io vado a mettere verticale lui va là e diventa nero e clic ok però vedete che c'è il meno se riapro quel vincolo lì si è perso di dunque per adesso non si riesce a mettere col punto medio invece che sarebbe stato comodo l'altra cosa se no bisognava pensare di fare lo schizzo però uno in un certo modo con un punto qualora probabilmente funzionava però purtroppo sparisce proprio questo vincolo e qua non si può creare come si vede non si può creare nel lo schizzo derivato nulla e dunque non posso neanche andare ad aggiungere dunque l'unica soluzione è proprio mettere il punto e cioè cliccare qua contro qua e mentre coincidente in questo modo risulta fisso dunque niente spero di essere stato utile è una cosa interessante ci vediamo la prossima arrivederci